Grazie a tutti. La nuova struttura usufruirà del medesimo metodo assistenziale formativo della Casa Madre ma animando ulteriormente la zona con la vitalità e la professionalità che contraddistingue da sempre gli operatori della cooperativa che vanta ben 20 strutture d'accoglienza nelle quali risiedono 1200 anziani dando lavoro a 600 dipendenti tra infermieri, operatori sociosanitari, psicologi, Si voleva dare una risposta adeguata per tutti quegli anziani auto o parzialmente autosufficienti che non potevano però vivere in autonomia e hanno bisogno di un supporto comunque di un ambiente comunitario. Ecco che è nata questa idea, questa struttura. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del vescovo Trasarti e del sindaco di Fano accompagnato dall'assessore del welfare di comunità Dimitri Tinti. La progettualità su quella che abbiamo lavorato parte un po' dall'esperienza che abbiamo vissuto nella prima Famiglia Nova quindi sicuramente l'importanza alla relazione con l'anziano che è terapeutica a volte molto più di tutta l'assistenza sanitaria e sociale che possiamo fornire e poi alcune idee da mettere in campo perché questa struttura anziché essere solo Famiglia Nova 2 sia una versione 2.0. Famiglia Nova 2 sarà anche il luogo in cui verrà avviato un nuovo progetto pilota per le marche tra anziani e bambini con la collaborazione di un asilo del territorio. Noi vogliamo portare qui proprio il concetto di educazione intragenerazionale quindi far lavorare bambini e anziani insieme quindi recuperare tutto quel bacino di valori, di tradizioni che comunque un po' la nostra società sta perdendo.